Musica Ciao a tutti ragazzi sono CyberDix in questo nuovo video Sono qui a giocare a Hellsword e madonna da quanto tempo non giocavo a Hellsword wow Ehi da quanto tempo non sto facendo video su Hellsword soprattutto E siamo qui per presentare questo nuovo raid boss Diciamo comunque Eltron non l'ho proprio trattato sul canale non l'ho fatto neanche la prima parte Però passo direttamente alla seconda parte con personaggio di Elisis così perché si mi va E cuore delle fiamme non mi ricordo il classaggio come si chiama se per se Eh si stiamo per cominciare non sono molto bravo già l'ammetto E soprattutto con sto personaggio cioè muoio sempre ma è qui non è per farvi vedere il punteggio Ma più che altro per presentarvi questo Eltron Eh questa è la prima volta che lo faccio anch'io oddio che cazzo succede Cioè ho fatto Eltron parte 1 e non l'ho neanche registrato perché sono un coglione E quindi wow ingresso di Eltron mark 2 confermato ripeto eh interrogazione eh energetico Cazzo che succede i piedi attaccami i piedi L'hyper 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 Oh cazzo non sto capendo niente No cos'è questa confusione non si capisce un cazzo Oddio le skill neanche le skill ho cambiato Non so se c'ho gli item riparati non capisco No sono appena morto oddio Non può essere già sono morto Che palle morire però Oddio che succede qua non so che Ah si la schiera sul piede sto facendo Si ma non posso capire se c'ho gli item danneggiati Ah si in alto dovrebbe uscire teoricamente Non lo so perché non c'è la minimappa qui Quindi non posso neanche sapere se gli item sono danneggiati o meno Oh porca iva no no Aia mi hai fatto molto male Mi hai fatto molto male non si faceva questo Stupidino Guarda guarda che skill Cioè gli tolgo un casino di danno Credo di essere io a quelle togliere il danno non gli altri E' un po' di tosse Oddio Comunque ragazzi Cosa ne ho aspettata Tornerò a fare i video su elseword sempre Con una persona che Tornerò a fare i video su elseword E quindi si tornerà forse alla serie dell'epic quest Wow ragazzi E di te cosa è successo Ti sei rimesso con Ti sei rifidanzato E io No Cioè si ma no Spiegheremo prima o poi Oddio sono appena morto Che palle Non posso morire Oddio ragazzi Continuiamo a colpire qui E fare i fighi Aiuto Vai sui piedi Sui piedi ragazzi Sui piedi Noi siamo feticisti Quindi andiamo sui piedi Sui piedi Mica questo mi fa danno Oddio Levati Oh cazzo Oddio Vai questa è forte Questa skill mi piace Cioè è un casino Non mi ricordo come si chiama neanche questa skill Oddio che succede Ma no Uffa Vai ricominciamo tutti i fieri Oddio che succede Sono rinato però non ho capito che succede Ah si si Siamo passati sopra Wow alle mani Ma vedo quel simbolino là sotto C'è scritto endurance Mi sa che in pratica Dobbiamo distruggere appunto Tutte le parti E poi si può passare Quindi ci manca la testa Il torace Non lo so quante parti stanno ancora Cioè abbiamo sei minuti Oh cazzo Speriamo di finirlo subito Questo non è il mio personaggio preferito Infatti non sto facendo un cazzo di punti Sto morendo sempre Ma allontanati Guarda Perché continui a fare le combo Levati 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 No cosa fai Cazzo Cosa sta succedendo Oddio ragazzi no Che cosa ho attivato Ah si Mi sono riparato Vai Cosa fai Cosa fai Fai la sta cazzo di skill figa Che figa Vai Vum 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 Cosa ho preso Non ho preso niente Wow Perché ti dici secondi Per caricare quella skill Levati Levati Ah Mi fa incazzare Ce l'abbiamo quasi L'abbiamo distrutto Sto cazzo di braccio Sto cazzo di braccio qui Oddio Non ci credo Sono morto a minchia Le devo finire di morire Dio che fastidio Che sta succedendo Cos'è questo raggio Tornetemelo davanti Spariamo Uccidiamolo tutto No 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 Qualcosa sta succedendo ragazzi Qualcosa di tosto Madonna Non posso morire sempre E dai che palle Non faccio un cazzo di punti Uh L'hyper Almeno l'hyper me la fai fare Vero Senza che cambi adesso Percorso qui Dai l'hyper L'ho colpito L'ho colpito Sì ma ora dovrei scappare Ecco Vai No Non ho preso un cazzo Cioè Non sto capendo Cioè non lo so se il video laggerà Perché teoricamente Non sto laggando Oh ma sono bloccato Da qualche parte qua eh Dio non si può accadere così Cosa succede Ogni volta che mi trasformo Succede un casino Non devo trasformarmi più Comunque mi sa che devo colpire Quei cosi la Cioè ho visto che sono Delle palline Cioè che sparano E sono fighe pure Lanciano quei raggi Dio che succede Muoviti Minchia La testa ragazzi La testa Quindi il tuo racce Non si prende Cioè Direttamente alla testa Mamma mia Usa la testa Come si dice Usa la testa E così Muoviti Fai sta skill Così almeno ti salvi il culo Dai io sono arrivato a 1061 di danno Non è male per me È la prima volta che lo faccio Ragazzi Perciò dovete scusarmi Cerchiamo di Dare un senso a tutto questo Oddio Guarda che Aper skill che ha fatto quello 1200 di danno Wow Ripariamoci No Hai fatto un cazzo Che adesso farei a skill La sto facendo io Aspetta un po' tu Ok adesso si sta laggando Ragazzi Adesso sta laggando Ma qualcuno sta facendo Qualche skill Ecco sì Come potevo colpirlo Come potevo colpirlo Dai che è quasi morto Dai Dai che ce la facciamo Possiamo abbatterlo Minchia A distruggerlo questo Ma c'è questa skill Che 11 secondi Ci metto a caricare Che palle Ma c'è Questo lusiello Deo Smettila di far laggare Smettila Ti prego No La mana No No Aia 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 Non mi trasformo Perché ogni volta che mi trasformo Succede un casino Eh vabbè Mi carico Dai la skill Vai Non ho usato la skill Oddio Dai Vai la skill Non c'hai sufficiente mana Oddio 34 secondi Vai Dove possiamo battere di nuovo Questo Mia ma quanto è figo Però eh Muovi te Uccidilo Uccidilo Ehi Espludi Espludi E' morto Oddio Oddio qualcosa sta per fare Sta per fare qualcosa Dobbiamo scappare Oddio queste palline di merda Cosa sta succedendo Non lo so Che cosa è successo Cosa è successo Aiuto No No Non posso stare quel secondo libero Per vedere Oh no Altri 50 secondi Cos'è Ah si Il video finale Integrazione Entro Completata Attivazione Modalità Regenerazione Automatica In corso Minchia Questo è proprio Firo Che cazzo Succede Sei riparato Non vale Non vale Ci vedremo La parte 3 Ci rivedremo Eltrion Uh Quanta roba Droppata Figa Ok ho finito Ma questa è la musica Di Perkis Che cazzo è Ok possiamo uscire Si possiamo uscire Ah vai Ok ragazzi Ho cambiato personaggio Ho preso il mio main Ossia silver dx Wow Con il raven Blade master Mamma mia Ok ragazzi Da molto che non l'utilizzo Quindi Ho cambiato le skill Ho appena messo la skill Del Oddio mi sono dimenticato Onda shock Quindi vai No Ci sono troppi secondi Da aspettare Ok ragazzi Siamo quasi pronti Minch Siamo solo 4 Che è Oh Entrate No Let's rock Quell'altro Che cazzo Che succede Ah di nuovo Questa minchiata Si Wow Quanto è il fiero Ma io voglio Eltrion come pet Minch C'era un periodo Che davano Eltrion come pet Da acquistare Eltrion Era si E ho un pet Una calcatura Non mi ricordo Si un pet mi pare Ed era fighissimo Vai partiamo con la mestrema Subito subito Spaccare i culi Vai Tutti con insetti Mostruosi Guarda quanta cazzo I danno faccio No rispetto a quell'altro Oh Levati Levati Non mi ha preso Non mi ha preso Certo che non mi ha preso Onda shock Vai No cazzo No cazzo No Levati Ma levati Oh Che cazzo fai Mi sa che ho sbagliato E come skill Dovevo mettermi passo Dell'ombra C'è cazzo Che cosa fai Levati Guarda ora mi prende Lo sapevo Ah io mi cambio skill Ragazzi C'è fatto un cazzo No Non posso cambiare skill E su uscita di Affanculo Levati No Votto un cazzo Tu cambi skill Mi metti passo dell'ombra All'improvviso adesso Ok Sì giusto per scappare ragazzi Perché tipo non si può Non si può morire così a caso Oddio che succede Sì Onda shock lama Passo dell'ombra Ecco vai Anche se passo dell'ombra No Perché ho fatto passo dell'ombra Solo andato al centro Perché Ok ragazzi Cerchiamo di morire a minchia Vai No Passo dell'ombra Dio perché Basta 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 morire così Ste cazzicomo di me Ora mi fa male questo Dove vai Dove vai Che stai facendo passo dell'ombra A cazzo Vai 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 Si colpisco così Perché Vai Vai Muori Passo dell'ombra Passo dell'ombra Col cazzo Che lo sfascio a questo Così Cioè no Ancora quelle palline Là sotto Maledette No adesso Dai Che fregatura Adesso che finalmente Mi ho trasformato Stavo attaccando così Che palle No eh Muori Vai Fai No Che fai Ah Oddio Passo dell'ombra Minchia Che poi hanno fatto Che clicchi Doppia volta E Doppia S Quindi torni indietro Che fastidio Gialluro Che hanno fatto sta cosa Vai No Non ho accettato le quest Del Del gioco qua Del Dell'evento C'era una quest Proprio Ah no Era settimanale Mi pare Quindi mi sa Che non Non la posso neanche accettare Oddio Questo spara Aiuto Cazzo Uccidiamo sti cosi Più che altro Ah non si possono uccidere Bastardi No No Che cosa farai Oddio Questo è l'inscansabile Cioè come cazzo Facevo Oddio Ora muoio No eh Non potevo morire Cioè meno male Che non mi ha fatto morire Quello stronzo Oddio Qualcosa stava succedendo Sicuro Anche questo è tosto Eh questo è tosto Eltron No però io volevo Registrare tutti Raid Boss Come non ho registrato Neanche parte 3 Di Perkissas Eh ho sbagliato Cioè io Peccato Volevo registrarli Ma non mi ricordo Perché non ho registrato Forse perché ho avuto affare Oddio Non Non adesso Non adesso Oh no Dai Adesso siamo Overpower Cioè No Non l'ho preso Come cazzo Si fa Oddio qua C'è un mirino Qua c'è la mira Non l'ho preso Con l'ame estrema Come cazzo Si fa Oddio Come si fa Uffa Come si fa Non prenderò Con l'ame estrema Nel 2016 Oh no No Muori Muori Passa al piano superiore Oh Dio Che cosa succede Bancato come lo schifo Questo Neanche lo sto prendendo Alla faccia Cioè Ma bucali gli occhi Va Ma bucali gli occhi Vai che cazzo fai Ah Spam Oh No Levati Levati Succede qualcosa Succederà qualcosa Provo verso di qua Ti devi girare Eh no Scusami Eh scusami Cosa sta succedendo No Aia Ma lagga Oddio chi è che m'ha preso Muori No Non so quanti cazzo di tali Dovrò fare per sto video Che chissi Tutte le morti che sto facendo Mamma mia Oh Sto coso Queste palline di merda Oddio che succede Abbiamo già distrutto la testa È stato facile Oh L'abbiamo smontato proprio Eh minchia Ha rotto le palle Cioè Muori No di nuovo la testa Oddio Vai Vai che lo battiamo Vai No Che cosa devi fare Che cosa devi fare Fammi scazzare Battere Via Passo dell'ombra Passo dell'ombra No Ho fatto un passo dell'ombra Apposta Resuscitiamoci Cosa fai Manco lo colpisci Manco lo colpisci Cosa fai Beh con questo sto facendo Però un po' i punti Eh Meno morti Dai meno morti Rispetto a prima 31 secondi Dai cerchiamo di fare Una bella skill Alla fine Per sbonnare i culi Per sbonnare i culi Che cosa fa No allontanati Che cosa mi fa esplodere Allontanati Mi fa esplodere Questo fa bibirim bibirim Dio Fastidio No con me ce l'ha eh Passo dell'ombra Un cazzo Cosa fai Che là esplode tutto Passo dell'ombra E torni indietro Cioè ma che schifo Vai che quanti punti Che ho fatto ragazzi Sfacca tutto Ok Ce l'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatta L'integrazione Ok Beh ho fatto un bel po' di punti Mi aspettavo peggio Invece no Rispetto al personaggio di prima Così Sì vabbè dai Droppami le cose qua Ah no Avevo letto Quello è uscito Che cazzo uscite ragazzi Ok Beh ragazzi Per questo video è tutto Grazie per la visualizzazione Scusate se ve lo portate in ritardo Non me lo portate quando è uscito subito Ma ho avuto un bel po' da fare E per questo video è tutto ragazzi E ciao a tutti ragazzi Ciao ciao ciao